Rossignoliro VC110MV, nuovo design e nuova forma per questi scarponi potenti ad alte prestazioni, presentano una vestibilità media adatta a una sciata tecnica ma con maggior comfort. Lo scafo in doppio materiale con tecnologia dual core e la scarpetta completamente personalizzabile con nuovo inserto in carbonio tra scafo e gambetto, si avvicinano sempre più alla serie Hero World Cup Z per essere ancora più performante. Ha una vestibilità anatomica con una pianta di cento millimetri. Rossignoliro Iro 110, testato nella misura 26 e mezzo, essendo un mid volume ho trovato tanto tanto spazio, io ho un last 96 quindi per il mio piede ho trovato tanto spazio ma nonostante questo comunque l'ho trovato preciso e nel contempo anche molto tecnico, quindi risponde bene alle caratteristiche che l'azienda l'ha destinato e comunque può essere utilizzato anche da livelli superiori quindi anche un L6 che non vuole magari affaticarsi più di tanto. Lo scarpone è veramente bello, nel senso che per chi usa questa scarpa qua nel livello 5 può veramente divertirsi in ogni suo contesto, sia nel corto raggio, nelle curve ampie, è uno scarpone che tiene molto la tenuta posteriore e ha una bella progressività. Io consiglio anche a sciatori che cominciano a sentire lo spigolo, quindi iniziano a tirare curve a curve condotte e soprattutto la cosa più emozionante che posso dire per donne che hanno un piede un po' largo possono tranquillamente indossarlo perché è facile da calzare ed è da una bellissima forma. Derivato dal gara, ha un counting da zero, è un grado sopra, però la cosa differente è questa parte in carbonio dietro che ti permette di sentire questa tenuta posteriore che ti porta in avanti e ti dà una spinta maggiore, consigliato veramente. Uno scarpone dalla calzata facile che avvolge bene sia il piede sia il polpaccio, molto confortevole quindi ma allo stesso tempo mantiene una precisione sia frontale che laterale veramente molto apprezzata. Uno scarpone che consiglio a un pubblico di livello 5, livello 6 ma che comunque può offrire anche buone situazioni a un livello 7, molto apprezzata. Grazie a tutti.